L'Orella è stata un'intellettuale raffinatissima, estremamente colta, appassionata nell'ambito di studi che lei ha privilegiato, che è quello della politica, ma non si è mai concessa a tecnicismi e questo le ha permesso di condividere con molti di noi aree di ricerca comuni, unendo le diverse prospettive. Amava e sapeva usare l'interdisciplinarietà. Noi ci siamo conosciute in un convegno su Cuglielmo Ferrero che è rimasto un punto di riferimento comune e poi ho avuto la fortuna di ritrovare qui l'Umsa L'Orella e di averla tra i docenti del mio corso di laurea di scienza della comunicazione. Sono stati anni bellissimi in cui, come raramente forse accade, siamo riuscite a coniugare momenti di dibattito scientifico, condividere impegni nella ricerca, nel dottorato e poi chiacchiere amichevoli molto intense che hanno via via stretto il nostro rapporto. Era un'intellettuale libera, coraggiosa, ma che portava il sapore della vita in tutti i suoi rapporti di lavoro e ancora più evidentemente di amicizia. Ha avuto la fortuna di essere una sua amica. Grazie a tutti.